Amara Terra Mia Il titolo della canzone scelta da Piero Mazzocchetti e cantata davanti ai familiari delle vittime di Rigopiano deve essere stato il pensiero che ha attraversato la mente di tutti ieri guardando splendere il sole sulle macerie dell'hotel distrutto dalla furia della valanga perché il 18 gennaio dell'anno scorso la terra è stata spiettata ed amara con le 29 vittime della sciagura spaventate dalle scosse di terremoto e bloccate dalla tormenta di neve che li ha poi sepolti una terra amara e bellissima quella di Rigopiano la stessa su cui sono stati deposti fiori davanti all'insegna dell'albergo l'unica cosa rimasta in piedi la stessa in cui appenne però sono state messe a dimora 29 piantine una per ogni vittima lecci che un giorno saranno alberi a futura memoria l'Abruzzo con la maiuscola non può dimenticare lo sa il comitato vittime di Rigopiano che sempre ieri per bocca del suo portavoce Gianluca Tanda che abruzzese non era e non è ma lo è diventato ha ringraziato tutta la regione quella con la R minuscola per l'affetto dimostrato perché quella di ieri è stata una cerimonia senza o quasi la politica e le sue parole ed è sicuramente stato meglio così per tutti ha parlato il presidente della Repubblica Mattarella che ha ricordato la generosità dei soccorritori e del popolo italiano aggrappati insieme alla speranza di vedere uscire vive da quell'inferno glaciale quante più persone possibile anche ieri nella giornata del ricordo su tutte le parole più o meno scontate è gravato il peso dell'inchiesta in corso da parte della procura di Pescara i dubbi sulla celerità della catena di comando dei soccorsi quelli sugli aerei militari che forse potevano tentare di arrivare lì dove altri mezzi non sono riusciti e dove solo sudore, scarponi e sci hanno portato i primi soccorritori se così fosse, dice al microfono Rossella sorella di Roberto Del Rosso, proprietario del resort il nostro dolore, quello dei familiari a cui si è unito quello dei semplici cittadini si tramuterebbe in rabbia se questa notizia dovesse risultare vera cioè... niente il dolore che finora ho contenuto sicuramente diventerebbe rabbia l'Abruzzo al di là di tutto e nonostante la terra sia stata amara quel 18 gennaio non dimentica non potrà mai farlo ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 questa era la nostra copertina che si riallaccia la giornata di ieri alla commemorazione per le 29 vittime della tragedia di Rigopiano si riallaccia le lunghe dirette che abbiamo fatto nel corso degli spazi informativi per raccontarvi proprio la commemorazione adesso però cambiamo argomento e proseguiamo il nostro telegiornale andando a Pescara andando a vedere una storia di emarginazione che riguarda le case popolari due donne anziane sono infatti costrette a vivere recluse nel proprio appartamento per la mancanza di un ascensore palazzine fattiscenti e carenti di manutenzione questa è la situazione delle case Gescal in via Valle di San Mauro a Pescara siamo nella zona dei Colli a pochi passi dall'ospedale le abbiamo visitate assieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari vediamo il servizio basterebbe un ascensore per migliorare la vita delle signore Carmina 78 anni e Gelsomina 88 anni due donne anziane che vivono entrambe al secondo piano del numero 40 di via Valle di San Mauro rione Gescal nella zona Colli di Pescara Gelsomina non cammina vive praticamente segregata in casa l'anziana sebbene provata nel fisico è lucida ma in passato ha sofferto di depressione dovrebbe uscire e fare una passeggiata a parlare con gli altri che non siano familiari seguendo il consiglio del medico ma anche una semplice quanto necessaria visita diventa un'impresa difficile e costosa da qui l'appello della figlia al presidente della regione D'Alfonso Sì io tante volte ho fatto richiesta di questo ascensore ma mi si è stato sempre rifiutato mi si è sempre stato detto che non ci sono i fondi e di conseguenza lei sono 4 anni che sta seduta su questa poltrona sulla sua carrozzina nel letto non può più scendere tant'è che nemmeno sul balcone perché la porta finestra è piccola e nemmeno la carrozzina lì esce dunque lei non prende aria lei è murata viva in casa segregata sta sempre così è giusto questo? Non è giusto non è giusto per nessuno allora io chiedo per favore al signor D'Alfonso di mettersi una mano sulla coscienza di vedere questa situazione e farci mettere l'ascensore urge sullo stesso pianerotto lo abita anche la signora Carmina ci accoglie con un gran sorriso in una casa pulita ed ordinata le grandi foto delle figlie e del marito che non c'è più sulle pareti lei cammina ma con grandi difficoltà vive con l'ossigeno sempre accanto a causa di una malattia al polmone anche Carmina sogna l'ascensore con lei abita una delle figlie disoccupata la pensione è il loro unico sostentamento esco solo per andare a fare una vista ecco e dieci giorni devo fare dieci giorni di uscita la mattina a fare la terapia perché se no non riesco più a muoverle le braccia come si fa? quindi per favore e chi mi sente mettetevi la mano sulla coscienza solo tre palazzine qui non sono dotate di ascensore ma dove c'è funziona male e questo succede quando si sale in tre adulti la portata è di quattro persone il nostro giro continua al terzo piano di questa palazzina nella casa si infiltra l'acqua proprio nella stanza dove dorme un anziano gravemente malato le case di proprietà dell'ater avrebbero bisogno di una manutenzione esterna straordinaria le migliorie interne dicono le hanno fatte di tasca loro gli inquilini quelli stessi che ci fermano e ci fanno vedere dappertutto crepe, asfalto dissestato e infiltrazioni di acqua prima di Natale ci raccontano i tecnici hanno fatto un sopralluogo li hanno rassicurati, hanno preso nota e sono andati via assieme a noi in questo giro in via Valle di San Mauro c'è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che chiede più risorse per la manutenzione delle case Ater io chiedo, faccio un appello come fanno anche loro al Presidente di Regione di mettersi veramente la mano sulla coscienza e distanziare immediatamente risorse per installare degli ascensori per ridare dignità a queste persone e adesso andiamo ad Ortona dove nella notte 27 famiglie hanno dovuto abbandonare un condominio a Porta Caldari in seguito all'incendio che si è sviluppato all'interno della cabina ascensore forse a causa di un cortocircuito 5 persone sono state trasportate negli ospedali di Chieti e Lanciano per l'intossicazione da fumo o dunque per problemi respiratori sono anche in corso le analisi da parte dell'Arta sulla qualità dell'aria vediamo i dettagli nel servizio Sindaco, tutto è successo alle 3 della notte scorsa un incendio all'interno del vano ascensore del condominio dove ci sono 27 famiglie e 5 studi che cosa è successo e che cosa ha potuto fare il Comune finora? abbiamo fatto tutto quello che era possibile attivando tutti gli strumenti in possesso dell'amministrazione comunale appena avuta notizia di questo incendio siamo arrivati sul posto dove abbiamo trovato già i carabinieri e i vigili del fuoco che stavano evacuando gli appartamenti per mettere in sicurezza i residenti noi da subito abbiamo attivato il COC, il centro operativo comunale con Croce Rossa, protezione civile, vigili urbani, ufficio tecnico del Comune per affrontare nell'immediato questa emergenza abbiamo subito aperto un locale del Comune dove abbiamo ospitato le persone evacuate, le famiglie evacuate per cercare di rassicurarle innanzitutto e offrire loro anche qualcosa di caldo perché tutto è accaduto in piena notte e al freddo purtroppo le famiglie potranno rientrare già da questa notte oppure domani mattina perché l'Arta vi ha rassicurato sull'esito degli esami? l'Arta non ha rassicurato, l'Arta ha fatto oggi dei prelievi quattro prelievi di cui conosceremo l'esito entro 24 ore perché questi sono i tempi tecnici noi abbiamo avuto la rassicurazione da parte dei vigili del fuoco che invece hanno sottoscritto e dichiarato che lo stabile non presenta problematiche strutturali e potrebbe esserci un problema solamente di igiene igienico-sanitario legato alla qualità dell'aria quindi attendiamo l'esito dell'Arta per prendere delle decisioni ed ora andiamo a Pescara dove questa mattina c'è stata la cerimonia per il passaggio di consegne alla direzione marittima Abruzzo e Molise Isole Tremiti cerimonia che si è tenuta nella base del terzo nucleo aereo proprio della direzione marittima che è a Pescara il controammiraglio Enrico Moretti che assumerà un importante incarico di direttore marittimo delle Marche ha lasciato il comando al capitano di Vascello donato De Carolis il servizio di Paolo Renzetti Io mi ritengo un privilegiato perché amo il mio lavoro e continuo ad amarlo con la stessa intensità che avevo quando l'ho iniziato a fare e sono ulteriormente privilegiato perché ho fatto il direttore marittimo nella mia terra d'adozione, l'Abruzzo, nella quale tornerò quando andrò in pensione quando appenderò le stellette al chiodo, anche se resteranno tatuate sulla pelle e lo andrò a fare nelle Marche che è la mia terra natale quindi mi ritengo veramente privilegiato mi sono commosso perché è un momento particolare lasciare non tanto il lavoro quanto le esperienze umane che il lavoro ti ha consentito di avere le esperienze umane vissute con il mio personale che non finirò mai di ringraziare perché non soltanto mi ha seguito ma mi ha anche supportato in tutti i momenti di difficoltà anche personale che ho avuto e sapevo che avevo le spalle forti e che potevo andare avanti perché avevo la loro spinta e il loro supporto allora avevo tutto il mio effetto, il mio ringraziamento e la mia riconoscenza per questa meravigliosa esperienza umana prima ancora che professionale vissuta insieme e sono convinto che ci sarà questa continuità nella conduzione fermo restando che l'equipaggio rimane lo stesso la continuità nella conduzione ci sarà perché Donato è un ragazzo di cappa e spada Per il capitano di Vascello De Carolis da oggi c'è il comando della direzione marittima Bruzzo Molise, Isole Tremiti, un ritorno a casa possiamo dire comandante? Un ritorno graditissimo, questa è la terza volta che vengo in questo, come ho detto nel discorso in questa terra forte e gentile dopo aver comandato il porto di Ortone essere stato il primo comandante, il primo capo compartimento e aver trascorso anche un bellissimo periodo qui a Pescara in qualità di vicecomandante Lei conosce bene la situazione soprattutto del porto di Pescara? Sì, la situazione la conosco, vedo con molto piacere che finalmente ci sono delle opere molto importanti che spero possano far rivivere il porto di Pescara in una situazione che merita davvero Le parole del comandante generale del corpo delle Capitenerie di Porto, Vincenzo Melone ha detto un cambio nel segno della continuità Deve essere così, io non concepisco, il cambio deve essere nel segno della continuità perché bisogna costruire, mai distruggere, bisogna sempre andare avanti altrimenti c'è una diseconomia, andare indietro significa aver perso qualcosa e non bisogna mai perdere, bisogna sempre andare avanti, quindi la continuità A Teramo è partita la macchina organizzativa per la cerimonia di insediamento del nuovo vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi che si terrà domani pomeriggio in cattedrale La città sarà blindata e chiusa a traffico per l'arrivo di tante autorità civili, religiose e militari tra l'altro è stato aperto anche il COC comunale protestano i commercianti intanto contro la decisione di annullare il mercato tradizionale del sabato mattina Sentiamo Tania Bonnici Castelli Sarà un arrivo quasi da star, un red carpet immaginario che si snoderà lungo le vie del centro storico Un evento spettacolare, il nuovo vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi farà il suo ingresso trionfale nel capoluogo a Prutino nel pomeriggio di sabato 20 gennaio Una città blindata per un prelato dal curriculum di tutto rispetto Nato a Trani, Monsignor Leuzzi è un medico da sempre vissuto a Roma delegato per la pastorale universitaria, per l'assistenza religiosa negli ospedali di Roma e cappellano della Camera dei Deputati La prefettura annuncia la presenza di numerose autorità civili, religiose e militari Si parla della venuta di Gianni Letta in persona e di altri parlamentari che assisteranno all'evento religioso in cattedrale dopo un saluto ufficiale che avverrà in Piazza Martiri Per l'occasione è stata montata un'imponente tenso struttura riservata a loro Salta però il mercato del sabato mattina e questa decisione non è piaciuta ai commercianti Questa cosa è stata decisa qualche mese fa Purtroppo certamente si poteva prevedere l'arrivo del vescovo di domenica In me è natale che una giornata festiva forse ci sarebbe stato anche un movimento diverso Purtroppo si perde una giornata ma soprattutto la cosa più grave è che non si recupera questa giornata Che poi in effetti è stata chiesta di fare il mercato la domenica e purtroppo non è stata accettata Il programma della cerimonia di insediamento del nuovo vescovo di Teramo prevede un incontro con i giovani nella mattinata di sabato al santuario di San Gabriele della Dolorata L'arrivo alle 15 in città al santuario di Madonna delle Grazie Dove sarà accolto dai fedeli per proseguire il lungo corso Cerulli fino alla chiesa di Sant'Antonio Dopo il saluto con le autorità in piazza Martiri Monsignor Leuzzi farà il suo ingresso in cattedrale Affinché proprio tutti possano seguire l'evento in diretta Sono stati posizionati vari maxi schermi a servizio di cittadini e fedeli Qualcuno potrebbe dire che i tempi sono cambiati Certo sono passati oltre 2000 anni dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme seduto su un asinello Sono tempi diversi sì, ma è sempre una festa Ora ci spostiamo all'Aquila Da qualche giorno è iniziato il trasferimento dei migranti del CAS di Via Roma Struttura gestita dal Movimento Celestiniano Alcuni dei migranti sono già stati trasferiti in altre sedi Altri invece saranno ricollocati entro la fine del mese accese di Preturo, Avezzano e Canistro Sentiamo il servizio della redazione aquilana È iniziato il trasferimento dei migranti richiedenti asilo Ospitati nel CAS di Via Roma all'Aquila Entro il 31 gennaio tutti gli 87 ragazzi attualmente residenti nella struttura Gestita dalla ONLUS Movimento Celestiniano Dovranno essere ricollocati in altri centri di accoglienza Il trasferimento è un atto dovuto in seguito all'esclusione del movimento Al bando indetto dalla Prefettura dell'Aquila per l'affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri Tuttavia tempi e modi nello spostamento sono stati stabiliti dalla Prefettura E non in maniera coatta ma proprio in collaborazione con la ONLUS Per facilitare le operazioni e rendere il traslogo il meno traumatico possibile I migranti sono stati suddivisi in quattro gruppi Ciascuno dei quali è stato formato in base ad alcuni criteri Come ad esempio quello della nazionalità oppure i rapporti di amicizia nati in questo periodo di permanenza Mercoledì 17 il prossimo gruppo, composto da una ventina di persone Ha abbandonato via Roma per raggiungere Sulmona Altri gruppi saranno ricollocati entro la fine del mese a Cese di Preturo In una nuova struttura aperta da poco, Avezzano e Canistro Ma c'è anche chi ha manifestato la volontà di rinunciare all'assistenza e di rimanere all'Aquila Pur di non interrompere il percorso di integrazione iniziato Il centro di accoglienza di via Roma, tuttavia, non chiuderà Il Movimento Celestiniano ha deciso di tenerlo aperto per continuare a dare un ricovero sicuro Proprio migranti che hanno rifiutato di essere trasferiti E anche a quelli che hanno perso da qualche tempo l'assistenza E che allora sono senza fissa dimora Lo scorso ottobre il CAS di via Roma era finito al centro di alcune polemiche Sollevate da un gruppo di residenti del centro storico dell'Aquila Capeggiati da Andreina Pellegrini Che ne aveva chiesto la chiusura in quanto fonte di degrado Il caso era finito anche alla terza commissione del Consiglio Comunale Voltiamo pagina, è stata avviata la procedura di licenziamento per 27 dipendenti del Cotir di Vasto Dunque aperta la mobilità per tutti i lavoratori del Consorzio Per la divulgazione e la sperimentazione delle tecniche irrigue Che la Regione Abruzzo ha messo in liquidazione insieme al Crivea di Miglianico Sopprimendo due centri di ricerca su tre E salvando solo l'ex Crab di Avezzano Nel frattempo trasformato in crua, cioè centro di ricerca unico d'Abruzzo Il collegio dei liquidatori ha scritto che la necessità di cessare l'attività È dettata dalla decisione dei soci di procedere alla liquidazione definitiva del Cotir Nei mesi scorsi, in un incontro a Pescara con il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso C'era stata la promessa di un reimpiego per i ricercatori Che sarebbero stati trasferiti nei laboratori marsicani Impiegati e operai invece sarebbero stati ricollocati in altri enti da individuare Allo stato attuale per loro, che non ricevono uno stipendio da quasi tre anni L'unica certezza è quella dell'apertura della procedura di licenziamento Adesso cambiamo di nuovo argomento e ci scupiamo dell'ospedale di Atessa La Giunta regionale d'Abruzzo a voto unanime con delibera del 7 novembre 2017 Ha deciso di accogliere la proposta avanzata dal Comune di Atessa Cioè quella di riconvertire il presidio ospedaliero in ospedale di zona disagiata Il contenuto di questa delibera però viene criticato dal centro-destra E dal gruppo di liberatesse in particolare Che esprime perplessità sulla modalità di attuazione di una decisione Presa a livello di programmazione sanitaria regionale Parlando di una delibera truffa Ascoltiamo perché nell'intervista ad Enzo Pellegrini Non riconosce e non ha le caratteristiche per il riconoscimento di un ospedale di area disagiata Infatti ciò che prevede il decreto legislativo 70 Che disciplina le condizioni che devono ricorrere per definire un ospedale di area disagiata In questa delibera non c'è e non c'è nello studio fatto da parte dell'Agenzia Sanitaria regionale Quindi è un riconoscimento che non può trovare la nostra approvazione In quanto noi siamo favorevoli al riconoscimento di un ospedale di area disagiata Con tutte le caratteristiche che deve avere un ospedale Nella sostanza noi vogliamo che nell'ospedale di area disagiata Ci venga riconosciuto soprattutto un reparto di 20 posti letto di chirurgia e ortopedia Che si appoggia al pronto soccorso Oltre ad affare tutte le attività in week surgery E non solo in day surgery Così come prevede la delibera Inoltre non vogliamo semplicemente una lungodeggenza Ma vogliamo ciò che anche in questo caso prevede il decreto 70 Un reparto di medicina a tutti gli effetti E con personale che deve essere garantito dagli ospedali vicini Quindi dall'ospedale di Lanciano e dall'ospedale di Vasto Quindi noi solo in questo caso siamo favoribili Potremmo essere contenti di un atto di programmazione Che doveva essere fatto in queste condizioni E non come è stato fatto dall'aggiunta regionale Quindi le perplessità che esprimevamo Quando si è svolto il Consiglio Comunale del 6 novembre Dove noi abbiamo votato a favore Di questa proposta del riconoscimento di ospedale di area disagiata Sono venute fuori e sono le perplessità a livello economico E a livello di personale Che le nostre asle stanno attraversando Proseguiamo adesso il nostro giornale Con la pagina dello sport Filippo Falco e Kevin Ianga Sono due nuovi giocatori del Pescara I due calciatori hanno sostenuto questa mattina Le visite mediche E poi hanno sottoscritto il contratto Con la società Biancazzurra Con il presidente Sebastiani abbiamo parlato Di questi nuovi innesti Della vicenda Embalo E abbiamo fatto anche il punto della situazione sul mercato Con l'intervista di Andrea Costantini Presidente Sebastiani Il Pescara ha rotto gli indugi Tra Embalo e Falco Ormai la strada è segnata Falco è un giocatore del Pescara? Sì, ma erano i due giocatori Che il mister aveva indicato Sin dall'estate scorsa O Falco o Embalo Che hanno le caratteristiche Per quel tipo di gioco che vuole fare lui Chiaramente Non c'era una prima scelta Perché Falco l'altro anno L'avevamo cercato all'inizio del mercato Però il Bologna non si sapeva Se lo teneva Se lo mandava via Tant'è vero che poi è andato via all'ultimo giorno E Embalo la stessa cosa Poi è rimasto a Palermo Quindi noi siamo contenti Di aver portato questo ragazzo a Pescara Perché secondo noi Ha le caratteristiche giuste Per poter dare una mano a questa squadra In quel ruolo in particolare Poi abbiamo fatto anche Iam Gha Che è un giocatore giovane Che ha una bella struttura Bella corsa È un giocatore che può essere Importante Perché comunque Per il tipo di gioco che fa il mister Devi avere la coppia In ogni ruolo Ecco Arriva dal Bologna In prestito con un diritto di riscatto Fissato a circa 1,3 milioni Falco Sì Falco Con un diritto di riscatto Di 1,3 milioni Mentre Iam Gha È in prestito Di 18 mesi Con un diritto di riscatto Che tra diritto di riscatto E bonus Si aggira intorno a un milione Ecco Presidente Embalo invece è rimasto Prigioniero del Palermo Sostanzialmente Ma io penso che Embalo Non sia venuto a Pescara Per un motivo molto semplice Perché evidentemente Il Palermo Ritiene di non dover Dare un giocatore importante A una squadra come il Pescara Che può essere un antagonista Tutto qui O evidentemente Magari anche il tecnico Dare un giovane A Pescara Che magari Poteva far bene A Pescara Non è sempre poi Un bel risultato Per un allenatore Ecco A questo punto Il mercato in entrata Del Pescara È chiuso? Ma noi Oggi Diciamo che Dal punto di vista Di quelle che sono le richieste Sono state le richieste Il mister Siamo a posto Però È evidente Che siccome Questo è un mercato Che poi in Italia Si riduce sempre Tutto all'ultimo giorno Abbiamo anche già Le idee Nel caso in cui qualcuno Dovesse andare via Chiaramente abbiamo I sostituti pronti Pettinari è tra questi? Nel modo più assoluto Ho sentito che abbiamo preso Un gap Perché Pettinari È destinato al Chievo Nel modo più assoluto Pettinari è evidente Che ha fatto bene Quindi ha delle attenzioni In questo momento Su di lui Però Riteniamo che debba fare Un girone di ritorno Ancora meglio E poi a giugno Si vedrà E domani riprende Il campionato di Serie B E per il Pescara C'è la trasferta di Foggia Non convocato Gravillon Per mancanza di alcuni documenti Non ancora pervenuti Dall'Inter Forfè anche per Zampano Le prese con l'influenza C'è invece Campagnaro Zeman dovrebbe schierare La squadra Messa in campo Nell'amichevole Contro il Lugano Con Crescenzi Al posto di Zampano Unico dubbio Il ballottaggio Fra Baez e Capone Con l'Uruguayano È favorito Questa scelta Inciderà anche Sulla posizione Nel tridente Di Mancuso Questa mattina Zeman Ha parlato E si è soffermato Sul mercato E su quella Che per lui Non può essere Una gara Come tutte le altre Chiaramente Per i suoi trascorsi Con il Foggia Ascoltiamo Il tecnico del Pescara Vabbè è normale Io sono contento Di tornare Poi bisogna vedere La partita Come va Sarei più contento Se si va a vincere Se si va a fare Qualche punto Contro una squadra Che secondo me È una buona squadra Nel senso Che gioca tanto Però c'è qualche Amnesia dietro Hanno fatto Qualche acquisto Importante Vediamo Come si inseriscono I nuovi Loro Quando lei Il Foggia Può risentire anche Negativamente Di tutti i personaggi Vabbè uno se lo augura Anche se Non credo Nel senso Che ha Portato I giocatori Importanti Fa come Tutte le squadre Cercando di Migliorare La squadra È vero Che Foggia Ha giocato Un calcio Che Lo giocano In pochi Nel senso Tanto possesso Più Più Da Barcellona Però Si devono Riforzare Dietro Penso che Tonucci E Canco Gli danno aiuto Spero che Spero che non Finiamo Come abbiamo Cominciato Nel senso Che eravamo Troppi Spero che Rimaniamo Anche perché In questa Pausa Per me Si è lavorato Bene Proprio perché In campo Poi eravamo In 20 Vabbè Sono contento Di quelli Che sono Arrivati Ma Lei serve Un centrocampista Ecco Completiamo La frase Completiamo La frase Che io Ripeto Vorrei La rosa Con doppione Nei ruoli 11 E 11 Vanno 22 Più Un difensore Un centrocampista Un attaccante E sono 25 Attualmente Siamo Ancora Tanti Per dire Io ho chiesto Un centrocampista Più o meno Con queste caratteristiche Cioè Volevo capire Un po' Se era questo La tipologia Il profilo Oppure no Per me Il profilo È Mariani Non sempre Si può avere Tutto quello Che uno Chiede Andiamo avanti Scendiamo di categoria Passiamo alla serie C Domani pomeriggio Torna in campo Il Teramo Albonolis Contro il Vicenza Nei biancorossi Modulo 4-3-2-1 Fuori Causa Ventola Al suo posto Altobelli Con Salles A sinistra Fuori De Grazie Medialna Tulli E Bacio Terracino A supporto di Barbuti Questa mattina Conferenza stampa Della vigilia Del tecnico Asta Sentiamo Jacopo Forcella Dopo un mese Di pausa Forzata Torna in campo Il Teramo Lo farà domani Sul terreno di gioco Questo del Bonolis Contro il Vicenza Formazione Veneta Che viene da un periodo Societario Davvero Incredibile Con il fallimento Da una parte Ma con la continuità Nel campionato Dall'altra Una gara ricca di insidie Per i nomi Tanti e ottimi Che ha la formazione Veneta La presenta così Antonino Asta Il tecnico del Teramo Niente Forse è la peggiore squadra Che potevamo affrontare Non c'è dubbio Perché comunque Almeno Quello che Che si dice Arriveranno Carichi Ha messo posto Più o meno Non è che sono interessi Nostri o miei Però io devo sapere Chi affrontiamo E qual è quella la squadra Se questa squadra È una squadra Forte già di per sé Che puntava Obiettivi importanti Già in inizio stagione Poi strada facendo Se hanno avuto quei problemi Forse hanno perso Un po' di punti Dovuto anche a questo Però assolutamente Affrontiamo La miglior squadra In questo momento Sia sotto l'aspetto Tecnico E anche Soprattutto psicologico Sul fronte Teramo Sarà assente L'esterno adesso Cristian Ventola Al suo posto In difesa Giocherà Altobelli Importa Continuità Per Lewandowski Al posto Di Tomas Calore Vedrò domani Lewandowski Però magari In certe situazioni Di gara Con avversari Che giocano Palla lunga Magari Loro sono Fisico davanti Con Comi Ferrari Cerca una palla Le palle in aria Profonde E così Lui ha attitudine A uscire un po' di più Ma questo è anche Periodo di mercato È andato via Foggia Ne ha parlato così Asta In conferenza stampa Era Anche una Una situazione Sua Cioè Sua Nostra Cioè Una situazione È diventata Un po' anche per lui Cambiare aria Ecco L'aveva capito anche lui Quindi ultimamente Aveva reso meno E tutto Quindi sì Ma in verità come lui Come anche altri Ci aspettavamo Molto di più Via Foggia Il tecnico Biancorosso Si aspetta Un uomo Capace Di essere letale Nei 16 metri Quelli che servono Al termo Per trovare I gol decisivi Alla rincorsa Salvezza Più magari un giocatore Ecco D'area di rigore Sicuramente Però Sai Oggi come oggi Il giocatore L'attaccante Un po' Un giocatore completo Cerca di aiutare Sia la squadra In fase difensiva Difendere palla E fare risalire la squadra Però Entrambi le situazioni Magari più un giocatore Che lì in area di rigore La palla Mezza e mezza Riesca a lui Essere presente Ecco Magari su queste caratteristiche Sempre sul fronte mercato È arrivato Nelle ultime ore Marco Castagna Dal Bari Che sarà Il vice Amadio Potrebbe anche Ricoprire altre Però In questo momento In quelle zone Siamo Siamo pieni Full Perché De Grazia Ilari Varas Comunque Graziano Che può fare Tutte e due così Giocatore di qualità Davanti alla difesa Mancino E L'evenienza Magari ci può dare Anche una mano Ma Nel contesto di squadra È un 98 Giovane Quindi insomma Lì ho anche esigenze Di giocatori Che finora Mi hanno dato delle garanzie Sul fronte formazione Dunque tutto confermato 4-3-2-1 Il modulo Che è stato scelto Dall'allenatore Altobelli E Sales Ai lati Con Caidi e Speranza Al centro Probabilmente De Grazia fuori Dentro Varas Insieme a Ilari E Amadio a centrocampo E poi Bacio Terracino E Tulli A supporto Di Riccardo Barbuti Mi preoccupa tutto Di una squadra importante Di una squadra forte Di una squadra Che ha qualità E quindi Insomma Mi preoccupa L'avversario Nella sua totalità Prima di chiudere Un avviso di servizio L'emittente TV6 Informa Che intende Diffondere messaggi politici A pagamento Per le elezioni Alla Camera dei Deputati E del Senato Della Repubblica Fissate per il 4 marzo 2018 A tal fine Informa Che nella propria Sede di Silvi In strada statale Nord 26 Al numero Telefonico 085 93 0020 E depositato Un documento Consultabile Da chiunque Ne abbia interesse Concernente Il costo Per la trasmissione Dei messaggi La collocazione Nel paninsesto Gli standard Tecnici Richiesti E il termine Di consegna Per il materiale Eventualmente Autoprodotto La persona Da contrattare Per ogni informazione Quintino Pallante È tutto Per questa edizione Del TG6 Io vi ringrazio Per essere stati con noi E vi auguro Un buon proseguimento Con i nostri programmi Per la trasmission Per la trasmission A A Grazie a tutti.